Cari amici del Corporate, ieri sera si è disputata la finalissima del Corporate di clausura, complimenti a entrambi le finaliste Derns Italia e Essilor Luxottica che si è giudicata. Il titolo, siamo arrivati al momento che tutti stavate aspettando perché martedì 11 luglio assisteremo alle ambitissime Final Four, disputeranno questo mini torneo, le quattro sfade finaliste del torneo Corporate di apertura e del torneo Corporate di clausura. Quindi ricordiamo, BTO Research, KPMG, Derns Italia e Essilor Luxottica. Come funzioneranno le Final Four? Molto semplice, due semifinali al termine delle quali le due vincitrici si sfideranno nella gran finale e la squadra che alzerà la coppa dalle grandi orecchie volerà insieme a me a Siviglia per le finali europee RC Sport. Ma in questo momento quello che state aspettando è appunto di vedere quali saranno gli accoppiamenti ed ecco qui quattro bussolotti all'interno dei quali ci sono i nomi delle quattro squadre delle Final Four. Quindi procediamo subito con la prima squadra estratta. La prima squadra estratta è Derns Italia che andrà ad affrontare KPMG, la squadra vincitrice del torneo Corporate di apertura. Allora va da sé e non dobbiamo nemmeno mescolare gli ultimi due bussolotti. L'altra semifinale sarà Essilor Luxottica contro BTO Research. Quindi appuntamento a martedì 11 luglio, ricordiamo, al Cimiano Calcio in via Don Giovanni Calabria 16, entro mercoledì di questa settimana vi invieremo il regolamento delle Final Four, quindi il minutaggio delle partite e tutti gli altri dettagli. E grazie a tutti, ciao!